Ciao miei cari follower, benvenuti sul mio canale. Oggi sono arrivate grandi notizie su Tag Babu Yukustun. Tuba Babu Yukustun ha dato una spiegazione molto carina. Questo è il punto che mi è piaciuto di più. Tutti i dettagli saranno nel nostro video. Prima di passare al nostro video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video. Cari follower, Tag Babu Yukustun, una delle attrici di successo del mondo televisivo turco, ha suscitato entusiasmo nel mondo delle riviste con una dichiarazione molto speciale fatta di recente. Questa affermazione ha sbalordito i fan di Tuba Babu Yukustun e il mondo dei media. Ecco i dettagli, Tag Babu Yukustun è uno dei nomi più rispettati e amati del mondo televisivo e cinematografico turco. Diventata un'attrice di fama internazionale prendendo parte a numerosi progetti di successo nel corso della sua carriera. Il famoso attore ha dichiarato in un'intervista che ciò che ama di più è il silenzio e la pace. Potrebbe sembrare solo un'intervista, ma questa affermazione di Tag Babu Yukustun sembra avere un significato più profondo. Tali dichiarazioni personali dell'attore, che ultimamente è stato seguito da vicino dai media, continuano a incuriosire e riflettere i suoi fan. Cosa simboleggiano il silenzio e la pace nella vita di Tuba Babu Yukustun? Questa domanda ha sollevato un enorme argomento di discussione sui social media, sui tabloid e nei programmi televisivi. Mentre alcuni si chiedevano se l'attore stesse pensando di unirsi a un nuovo progetto, altri lo hanno interpretato come un segno di una situazione misteriosa nella sua vita personale. Vi presenteremo sempre le sorprendenti dichiarazioni di Tuba Babu Yukustun. Arrivederci, ci vediamo con nuovi video.